Verso la prescrizione dei reati per l'alluvione del 2003. Dal prossimo 23 marzo il reato di omicidio colposo non sarà più perseguibile per i 24 imputati del maxiprocesso, fra cui due ex sindaci, segnanini e conti, dirigenti comunali e imprenditori del marmo, tutti coinvolti nello straripamento del Carione che nel settembre del 2003 provocò la morte di Idina Nicolai e fece gravissimi danni alla città. Oggi si sarebbe dovuta tenere la prima udienza, ma di fatto la mole interminabile di testimoni, 80 solo quelli indicati dalla procura e il numero degli imputati ha fatto sì che si decidesse per il rinvio al primo giugno. Però entro il 23 marzo si sarebbe dovuto concludere il processo nei tre gradi di giudizio, motivo per cui il primo giugno prossimo sarà ufficializzato il proscioglimento di tutti gli accusati. Dispiace per quanto riguarda la posizione del mio assistito, il sindaco Lucio Segnanini, in quanto come difensore credevo di poter dimostrare la sua estraneità ai fatti e anche altri colleghi per altre diverse posizioni pensavano di poter celebrare il processo. Tuttavia siamo messi di fronte a questa impossibilità e non possiamo che prenderne atto, perché rinunciare alla prescrizione significerebbe fare un salto nel buio e comunque celebrare un processo con 80-100 testimoni che si protrarrebbe comunque nel corso di ulteriori altri anni.